E buon pomeriggio di nuovo raga, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Ci ritroviamo in questo caso qui, esattamente quasi al centro della mappa Ma in realtà guardate in quante location possiamo andare Vi lascerò adesso poi una clip commentata in generale, vi farò vedere tutte le location Però in ogni caso dovremo salire su uno scanner corporale E lo scanner, nelle maggior parti delle location, che appunto sono queste qua che vi sto facendo vedere Si trova dentro questo edificio qua Questa specie di piccolo edificio con questa porta scorrevole Come potete vedere basterà semplicemente salirci e rentabila tanta tanta roba Adesso però vi faccio vedere anche le altre location giustamente Perché non tutte le location si trova in questo edificio qua Difatti raga il secondo scanner in questo caso si trova esattamente in questa parte di mappa Esattamente vicino a Calacredente come potete vedere qua Mi trovo in questa location esatta, esattamente qui raga dove c'è il mio puntatore Si trova appunto il secondo scanner, ti sto facendo vedere tutte le location Esattamente anche questo qua si trova dentro questo edificio porta qua Esattamente qui ragazzi come potete vedere c'è lo scanner Eccolo lì in tutto il suo splendore, esattamente qua Questo è lo scanner dove voi dovrete salire per completare questa missione Passiamo invece al terzo in questo caso, io sono partito diciamo dal primo in centro Perché semplicemente almeno vedavate un pochino come veniva fatta l'animazione Ma in ogni caso il secondo si troverà anche in questo caso a Fortezza Furtiva In questo edificio qua, quindi esattamente qui ecco che lo vediamo esattamente lì Eccolo qua boys, il terzo scanner corporale Andiamo avanti perché andiamo dove c'è praticamente la radio FN Ecco qua che è stato tra virgolette trasformato, meglio la radio c'è ancora ma vicino È stato trasformato questo posto qua in questo avamposto se così lo possiamo chiamare Ed ecco qua in questo caso non sarà nell'edificio che abbiamo visto come negli altri piccolino Ma sarà esattamente qua raga dove c'è appunto questo edificio leggermente più grosso Qui dentro ragazzi si troverà come potete vedere qua il quarto scanner Eccolo qua è tutto il suo spledore Andiamo avanti raga perché abbiamo un altro esattamente qui E arrivando appunto da qua il quinto scanner corporale si troverà esattamente qui raga Dove c'è questo edificio uguale, identico a quello precedente della radio FN Scendiamo un pochettino e lo troveremo esattamente qui come potete vedere Eccolo qua Fate attenzione perché c'è un edificio uguale, identico dall'altra parte Come potete vedere c'è uno letteralmente uguale, 07, scritto identico Ma non è quello dove c'è lo scanner corporale È esattamente questo qua Arrivando appunto dalla radio FN Eccolo qui sulla destra Andiamo un pochino più veloci stavolta esattamente dove c'è come potete vedere qua il ponte giallo Esattamente in questa location qua sotto brughiere brumose Ecco qui e in questo caso sarà come i primi che abbiamo visto Quindi questo edificio piccolino Eccolo qua che lo vedete, bello gagliardo Andiamo infine raga nell'ultimo scanner perché quello c'è del 3 l'abbiamo appunto visto Tra virgolette in the live Eccolo qua vicino appunto a Pantano Palpitate Ovello sotto precisamente a Pantano Palpitate Tra l'altro io qua mi sembra di non esserci mai venuto Con tra l'altro la roba degli elicotteri E in questo caso qui a Pantano Palpitate Si troverà come la radio FN E vicino a Corso Commercio Esattamente in questo edificio qua con scritto 03 Quindi raga queste sono tutte le location Di tutti questi bellissimi scanner corporali Fatevi sapere qui sotto nei commenti Che cosa ripensate di questa missione Insomma decidete voi dove andare Un bacione grandissimo Vi consiglio appunto di andare dove sono andato io in questo qua Perché è quello centrale diciamo Così non state troppo distanti dalla safe E niente raga un bacione grandissimo Bella ragazzuoni